Quali sono le ultime novità per la cura del linfoma di Hodgkin? Ne parliamo con il professor Michele Spina che abbiamo incontrato a Bologna in occasione del congresso post-HASH, un meeting durante il quale si fa il punto sulle novità più significative emerse al congresso dell'HASH, la società americana di ematologia. Allora dottor Spina, oggi appunto in tema di linfoma di Hodgkin lei ha parlato di un nuovo schema di chimioterapia associato a Brentuxian Vedotin nel paziente anziano, uno studio presentato all'HASH. Di che studio si tratta e che risultati ha dato, che implicazioni ha per la pratica clinica? Sì, è uno studio presentato dai colleghi del gruppo tedesco e dai colleghi del gruppo nordico, che ha utilizzato il cosiddetto schema B-CAP, che è un'associazione di Brentuxian Vedotin più una modulazione della SHOP senza la vincristina, in pazienti con malattia di Hodgkin avanzato al di sopra dei 60 anni. Devo dire che i risultati sono molto interessanti perché lo schema è stato molto ben tollerato, con poca tossicità per questo gruppo di pazienti ad elevato rischio di tossicità, è ottenuto una percentuale di remissioni complete valutate con la PET di oltre il 65%. Quindi rappresenta una nuova opportunità nella pratica di tutti i giorni per trattare pazienti veramente anziani, che farebbero fatica a tollerare gli schemi classici per i giovani. Ecco, al Congresso di San Diego sono stati presentati anche dei nuovi dati sul ruolo della radioterapia nel paziente anziano. Quali sono le novità da questo punto di vista? Le novità sono che un importante studio tedesco su oltre mille pazienti con malattia di Hodgkin in stadio limitato, prima e secondo senza fattori di rischio, dove in questo momento lo standard sono due cicli di chemioterapia secondo lo schema classico ABVD più 20 grade di radioterapia, non possono in questo momento permettersi di omettere la radioterapia. Infatti i dati di questo studio, dove i pazienti PET negativi non facevano la radioterapia nel braccio sperimentale, dimostrano che questi pazienti hanno un'elevata percentuale di recidive di oltre il 10% a 10 anni, che è un dato inaccettabile in una popolazione che guarisce in oltre il 95% dei casi. Quindi al momento attuale, negli stadi iniziali, il trattamento standard rimane la combinazione chemio-radioterapia. Ecco, al congresso ASH sono state presentate anche novità interessanti per quanto riguarda le complicanze a lungo termine. Quali sono e quali sono le novità sulla gestione di queste complicanze? Le complicanze a lungo termine sappiamo che purtroppo oggi rappresentano una causa di morte importante in pazienti che dopo anche 10 o 20 anni sono guariti dalla loro malattia. Il follow-up in questi pazienti deve concentrarsi non tanto sul rischio di recidiva, che appunto questo studio nordico, che comprende oltre 2.000 pazienti provenienti dalla Svezia, dalla Norvegia e dalla Finlandia, ha dimostrato che è meno dell'1% dopo 5 anni, addirittura quasi inferiore al 5% dopo 24 mesi. Il follow-up non deve tanto concentrarsi su esami che possono risultare inutili o come la TAC, anche dannosi in alcuni casi, per andare a valutare la recidiva di malattia, ma deve concentrarsi su aspetti più ampi, come la valutazione delle seconde neoplasie o delle complicanze cardiologiche o polmonari che questi pazienti rischiano di sviluppare dopo i 10 o dopo i 15 anni. Quindi il follow-up va continuato, ma con un'ottica assolutamente diversa, dove la partecipazione di più specialistici, l'opremologo, il cardiologo, l'endoclinologo, rappresenta un punto fondamentale. Durante la sua relazione lei ci ha spiegato che ci sono novità interessanti anche per quanto riguarda nuovi farmaci, in particolare due anticorpi monoclonali, uno dei quali è un inibitore dei cerchi quanti immunitari. Di che cosa si tratta? Allora, si tratta il primo di un anticorpo anti-CD25 che ha coniugato, che ha la capacità di portare all'interno della cellula un farmaco che attiva un complesso che distrugge il DNA. Questo si è dimostrato molto attivo in pazienti pesantemente pretrattati, erano pazienti che avevano ricevuto in media 5 linee di chemioterapia, la maggior parte di questi aveva ricevuto sia il trapiantautologo che gli altri nuovi farmaci, come il Brentuximab o come un ulteriore inibitore, un checkpoint inhibitor, e si è dimostrato che su 14 pazienti così pesantemente pretrattati, 13 pazienti hanno ottenuto una risposta. Naturalmente il follow-up è ancora breve per poter dire che è un farmaco che cambierà completamente la pratica clinica, ma i risultati sono molto promettenti. L'altro farmaco invece è un inibitore anti-PD1 di produzione cinoamericana, anche questo in pazienti non pesantemente pretrattati come quelli di prima, ha dato però delle risposte complete molto importanti con una durata della risposta significativa. Sarà importante vedere anche a lungo termine qui cosa succede, ma soprattutto testare questo farmaco in pazienti che hanno sperimentato più linee di chemioterapia per poter comparare i risultati con gli altri checkpoint inhibitors.